La domanda è così, essendo una donna in più difficile, comunque una donna molto giovane, una donna anche molto bella, mi permetto di dirlo, se hai mai incontrato degli elementi, non dico discriminatori, però insomma, la galanteria pelosa, oppure la sensazione che magari che hai davanti non ti prende al 100% sul serio come tu vorresti, come tu vorresti essere presa, se ti è mai capitato o difficoltato quando magari devi andare a chiedere in banca presto i soldi, i investimenti, la sensazione, mai avuta sensazione che essendo donna, giovane e anche molto creativa, in qualche modo fosse una penalizzazione piuttosto che un vantaggio? Ovviamente sì, soprattutto all'inizio perché non sapevo gestire bene questo aspetto, che perché da un lato mi facevo ottenere magari degli appuntamenti con degli individui che molto spesso sono uomini, quindi chiaramente ti aprono le porte più facilmente se sei giovane, carina e simpatica, però quando poi arrivi lì e devi stringere, ecco lì subito il problema, ma anche qui ho affinato la tecnica, nel senso che non bisogna essere gentili, non bisogna sorridere troppo, non bisogna essere stronze, perché gli uomini perché non sono serio, ci provano magari adesso, ci provano un secondo a fare il piaccio, ma finisce subito perché non rido, cioè gli dico proprio non c'è niente da ridere, quindi ridi da solo se non vuoi, allora fai cammino, quindi diciamo che sì, è un problema che sussiste, però noi dobbiamo essere bravi a snaturarci, solo in quel frangente, almeno in questo momento storico, ma sicuramente le cose stanno già migliorando, in questi sette anni ho già visto la differenza, magari un po' potrebbero snaturarsi anche loro ogni tanto e stare in giro, oltre che a snaturare nemmeno troppo!